Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa sessantunesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di iPhone SE 2020. Fatimane ha pubblicato un piccolo articolo editoriale nel quale fa alcune critiche a questo nuovo prodotto della casa di Cupertino. Critiche che sono condivisibili perché anche la stampa internazionale l'ha definito in alcuni casi soltanto il vecchio polpettone con soltanto un po' di ketchup nuovo da sopra. Qualcosa di già visto, qualcosa che non innova, però si sa, a mio avviso, finirà come tutti i prodotti dell'Apple, disprezzato e ne criticato da tutti quanti, ma poi ne venderanno a vagonate, anche considerando il fatto che negli Stati Uniti ha un prezzo d'attacco inferiore rispetto a quello del vecchio continente, quindi è molto più appetibile. Sempre Fatimane ha pubblicato una piccola guida che spiega una funzionalità che molti di voi non conosceranno, di sicuro me compreso non la conoscevo fin quando non me ne ha parlato Alessandro, una funzionalità che consente di passare la nostra playlist di canzoni catturate con Shazam e trasferirla automaticamente su Spotify. All'interno del blog trovate le informazioni su come fare. Se utilizzate Mozilla Thunderbird e volete sincronizzare il vostro account Google per poter avere Google Calendar sincronizzato su Thunderbird, beh, su Marcosbox trovate una guida rilasciata da Luca nel quale vi gusta come poter fare con una serie di estensioni, è una guida davvero molto ben fatta, vi guida passo passo, quindi andategli a dare un'occhiata se utilizzate questa funzionalità. Torniamo poi a parlare di coronavirus e lo facciamo in salsa tecnologica. Negli scorsi giorni politica, media e comuni cittadini si sono interrogati su Immuni, un'applicazione per smartphone Android e iOS che il governo italiano ha commissionato a Benning Spoon e che verrà utilizzato come strumento di contact tracing digitale per monitorare i contatti fra le persone al fine di fronteggiare al meglio la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Bene, sono state diverse problemiche riguardanti la privacy degli utenti e per questo motivo il Ministro dell'Innovazione ha dovuto pubblicare un articolo nel quale fa chiarezza sul livello di privacy di questa applicazione e ha fatto anche alcune dichiarazioni riguardo il tipo di licenza che sarà adottata e abbiamo scoperto con nostro grande stupore che sarà rilasciato con licenza open source MPL 2.0, quindi con codice libero e aperto. Non è una vera e propria licenza open source, è criticata anche dall'Electronic Frontier Foundation che la classifica soltanto come freeware, però comunque sembra meglio di niente. Era molto meglio ovviamente una GPU, ma è comunque un passo avanti. Di browser basati su Chromium è pieno il nostro web. Fra questi browser ce n'è uno che si chiama Vivaldi. Vivaldi è stato creato da alcuni ex sviluppatori di Opera. Qualche tempo fa su Marcosbox ho pubblicato anche un'intervista agli sviluppatori di Vivaldi. Bene, questo browser è comunque apprezzato, una sua nicchia di utenti, anche perché è leggero e offre alcune funzionalità interessanti. Il team di Vivaldi ha annunciato questa settimana il rilascio della versione 3.0 di questo browser, che ricordo essere disponibile per Windows, Mac OS, Linux e Android. Qual è la novità principale di questa nuova versione? Bene che questa nuova versione di Vivaldi offre un blocco dei tracker sviluppato in collaborazione con DuckDuckGo e un blocco della pubblicità. Quindi tutto integrato, tutto nativo, che vi consente di aumentare la privacy durante l'analogio dell'internet, velocizzare il caricamento delle pagine e quant'altro. Altra novità di questa versione è l'aggiunta di un orologio nella barra di stato. Direte voi che cavolo ci fate con l'orologio? Beh, ovviamente, oltre a mostrare l'ora, questo orologio presente nella barra di stato di Vivaldi consente di avere un contrarrovescia e un allarme che possono essere utili in diversi casi, come ad esempio programmare delle pause, oppure impostare un allarme per futuri eventi. Vi dicevo, è disponibile anche per Android, era in fase beta negli scorsi mesi e in concorbitanza con il rilascio della versione 3.0 è diventato stabile, è diventato ufficialmente stabile. Anche la versione per Android offre il supporto al D-Block nativo, quindi, e al blocco dei tracker in collaborazione con DuckDuckGo, quindi non dovete aver paura durante la navigazione. L'interfaccia utente di Vivaldi per Android è ottimizzata sia per smartphone che per tablet grazie alla presenza dei tab delle schede, quindi se utilizzate i browser su tablet vi troverete comodi perché sembrerà di stare utilizzando come, diciamo così, come se fosse un computer. Ovviamente anche Vivaldi consente di attivare la sincronizzazione di segnalibili, password, eccetera, tra i vari dispositivi, quindi se decidete di migrare tutto il vostro workflow, sia desktop che Android, bene potete sincronizzare il tutto, quindi non avrete la paura di perdere tutte le password salvate e quant'altro. Una delle feature di Fedora è quella di non rispettare mai la tabella di marcia per quanto riguarda le date di rilascio. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con la decisione da parte del team di Fedora di non dichiarare rilasciabile Fedora32 a causa di alcuni bug bloccanti che non erano stati ancora risolti. Bene, a distanza di una settimana il team di Fedora si è nuovamente riunito in maniera virtuale e ha dato il via libera al rilascio di Fedora32, che verrà dunque rilasciato il prossimo 28 aprile 2020. Se vi piace Ubuntu ma non vi piace Ubuntu, beh, potete provare PopOS. Il team di System76, che è quella azienda che produce computer Linux compatibili, ha ufficializzato il rilascio della versione beta di PopOS 20.04. Si tratta di una derivata di Ubuntu, in questo caso, specifico di Ubuntu 20.04, che fa utilizzo di Gnome Shell con una serie di ottimizzazioni e personalizzazioni qualità. La distribuzione è pensata per essere, per meglio adattarsi sui computer venduti dal System76, ma è comunque liberamente scaricabile e installabile da chiunque. Ho diversi amici che lo utilizzano come distribuzione principale, perché gli piace l'approccio di questa distribuzione, perché offre una serie di ottimizzazioni, offre il supporto ai driver Nvidia, quindi ottimizzato e quant'altro, e piace, piace a diversi. Bene, questa nuova beta, questa prima beta di PopOS 20.04, introduce alcune migliorie, quelle là che vanno con una serie di estensioni che sono state aggiunte per meglio personalizzare l'interfaccia utente. Introduce poi una nuova estensione per Gnome Shell, che ci consente di attivare una funzionalità di tagging automatico delle finestre, che è molto utile se siamo soliti lavorare su schermi molto grandi con diverse finestre affiancate. Non è un vero e proprio Windows Manager tagging, ma è comunque qualcosa di interessante. Ci sono poi delle nuove scorciatoie da tastiera, c'è il supporto a Flatpak in PopShop, quindi un da PopShop sarà possibile installare applicazioni in formato Flatpak e il repository delle applicazioni è quello di Flatab, quindi quello più conosciuto. Ovviamente questa distribuzione si differenzia da Ubuntu per il fatto di essere Snapfree, quindi hanno scelto di abbracciare Flatpak e hanno deciso di rimuovere tutto quello che è Snap e questo si ripercuote anche in termini di leggerezza sulla distribuzione di velocità, perché Snap si porta un po' di lentezza e qualità. Se siete interessati a questa distribuzione, trovate il link su Marcosbox dove poterà scaricare, vi ricordo che ci sono due edizioni, quella generica Intel AMD e quella Nvidia che offre il supporto nativo out of the box ai driver Nvidia, cosa che fanno anche le altre distribuzioni, però qua ci sono alcune piccole ottimizzazioni che mi dicono dalla regia fare un po' la differenza rispetto alle altre distribuzioni. Se invece vi piace Ubuntu, beh, correte a scaricare Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Canonica ha annunciato il rilascio della versione stabile ed è disponibile liberamente scaricabile sia nell'edizione principale, quella con Gnome e Shelly, che nei suoi flavors ufficiali, ovvero Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e XUbuntu. Per chi è nuovo si tratta di edizioni di Ubuntu con desktop environment alternativi, quindi troviamo KDE, Mate, XFCE, Bagi e quant'altro. Questa edizione di Ubuntu è a mio avviso la migliore Ubuntu di sempre, consentitemi di prendere in prestito lo slogan della concorrenza. Cosa offre? Offre un Gnome 3.36, quindi con tutte le migliorie che sono state apportate in Gnome, che rendono più fluido, più piacevole da utilizzare, personalizzato fortemente da Canonical, con una serie di estensioni che rendono l'utilizzo di Gnome Shell più piacevole e più facile per gli utenti anche alle prime armi. Ve ne avevo già parlato diverso tempo fa, perché amo queste serie di estensioni che Ubuntu pre-installa. Abbiamo una dock laterale fissa, abbiamo il supporto nativo agli indicatori delle applicazioni, cosa che non ho mai capito perché è stata rimossa da Gnome. Abbiamo le icone sul desktop, perché la gente piace avere le icone sul desktop. Abbiamo alcune chicche, come per esempio il fatto che non c'è attivato l'hot corner, che è una delle cose che uno spesso fa il gesto e si riesce su Gnome Shell e si ritrova attivo la panoramica, insomma. Ottimizzazioni qua e là che rendono molto piacevole il tutto. Fra l'altro questa nuova versione di Ubuntu offre anche una nuova variante del tema Yaru. Il tema Yaru è un tema che è stato personalizzato da Canonical e è pensato per dare un imprendimento in cara a distro. È un tema basato su Adua Ita, ma offre una variante cromatica con i colori tipici di Ubuntu. In questa nuova versione ci sono due nuove, o meglio, ufficialmente, due nuove varianti cromatiche del tema Yaru, c'è quella chiara, c'è quella totalmente dark, scura. Oltre all'onore sul tema GTK, è presente un nuovo tema per icone che è molto piacevole e gradevole da utilizzare, perché si sposa perfettamente con il tema Yaru GTK e abbiamo anche alcune piccole chicche, come per esempio adesso è possibile cambiare il tema direttamente dalle impostazioni di sistema, quindi non dovremmo rivolgerci a istensioni di terze parti o tour di terze parti per poterlo fare, ed è davvero interessante. Andando alla ciccia, l'altra novità di questa nuova versione di Ubuntu è che questa è la prima LTS ad essere rilasciata nella sua edizione a 64 bit, e questo significa che gli utenti con l'architettura i386 non potranno effettuare l'aggiornamento di versione. Poco male, perché comunque la vecchia LTS garantisce il supporto fino ad aprile 2023. Quindi se avete Ubuntu 20.04 state coperti per altre tre anni. Se invece decidete di installare Ubuntu 20.04 LTS avrete supporto esteso fino ad aprile del 2025. Invece i flavors ufficiali di Ubuntu, quindi le versioni di Ubuntu con desktop alternativi, offrono supporto fino ad aprile 2023. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni sulle novità principali di questa nuova versione di Ubuntu e trovate i link per poterla scaricare. Oltre ai link per poterla scaricare, trovate una serie di guide post-installazione per Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Kubuntu e Ubuntu Mate. Le guide sono pensate per gli utenti alle prime armi e offrono una serie di consigli su quale applicazioni installare per poter avere un sistema più completo possibile. Quindi con giuste applicazioni quelle essenziali che vi consentono di fare praticamente il 90% di quello che si può fare con un computer. Alcuni mi hanno criticato e hanno criticato la mia scelta di fare guide relative ad ogni distribuzione. Hanno pensato che faccio questa cosa soltanto per avere più visibilità all'interno dei motori di ricerca. Bene, questo non è il vero perché ci sono una serie di... al primo sguardo possono sembrare tutti uguali perché i programmi consigliati sono quasi sempre gli stessi. Quindi se cercate un editor video vi consiglierò sempre KDN Drive ad esempio e altre cosine del genere. Però alcune cose variano da guida a guida perché non tutte le edizioni di Ubuntu e dei suoi frameworks offrono lo stesso software preinstallato. Quindi ci sono delle varianti all'interno delle varie distribuzioni, delle varie edizioni e quindi necessitano di spiegazioni a parte. Per esempio su alcune varianti di Ubuntu vi sconsiglio di utilizzare, che non so, Inkscape in formato snap. Perché ve lo sconsiglio di utilizzare? Perché semplicemente Inkscape in formato snap è lento ad avviarsi. Quindi se voi utilizzate una distribuzione che è pensata per essere installata sul computer datati, beh è inutile che vi andate a installare qualcosa di lento, ma meglio prediligere la versione quella dai repositori. Se Ubuntu, se avete già un computer pressante, magari non ci fate caso, quindi è inutile che vi dico una cosa del genere. Oltretutto poi nelle varie guide post installazione trovate anche nella parte iniziale della guida una panoramica del software preinstallato. Quindi potete farvi subito un'idea di quello che hanno pensato gli sviluppatori, di quello che hanno aggiunto gli sviluppatori alle varie distro per poter essere utilizzate. Quindi che ne so, Ubuntu predilige Thunderbird anziché il programma di posta elettronica predilito il gnome e altre cosine quella. Dunque andatevi a leggere e fatevi un'idea voi. Per ogni rilesi di Ubuntu che viene rilasciata, viene annunciato successivamente il nome in codice della versione successiva, quella che sarà rilasciata da lì a sei mesi. In passato era tradizione che l'annuncio venisse fatto da Mark Shutterworth, che è il patron di Ubuntu. Beh, da qualche rilesa questa parte si è messo sulle sue, non parla più come prima. Beh, fortuna vuole che l'annuncio è stato comunque dato da Martin Winpress, che è l'attuale director of engineering di Ubuntu Desktop, che ha annunciato che Ubuntu 20.10 si chiamerà Growing Gorilla. Quindi il gorilla sarà l'animale totem della prossima versione di Ubuntu, che verrà rilasciata il prossimo 22 ottobre 2020. Bene, questo è davvero tutto. Un saluto lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di MacroSbox.